Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciare un like, permettetemi prima di entrare nel vivo dell'argomento di ringraziare tutti coloro che hanno messo like agli ultimi video, tutti quelli che si sono iscritti al canale, tutti coloro che hanno avuto dei commenti positivi, ringrazio anche chi li ha avuti negativi ed è rimasto nel giusto contesto di una educazione, ecco che io cerco sempre di avere nei confronti degli altri per quanto possibile, ma colgo anche l'opportunità per ringraziare una persona in particolare, mio amico Andrea Longoni che mi ha supportato, mi sta supportando, mi sta soprattutto sopportando in questa nuova avventura, il merito è anche suo, è anche suo che mi sta, è un segugio e non mi sta mai lasciando solo nel vero senso della parola, lui che è un maestro ovviamente delle imprese e dei record online, sta cercando a questo piccolo allievo di insegnare qualcosa, spero di essere io un buon apprendista, non parlo neanche di allievo ma dico semplicemente un buon apprendista. Ciao Andrea, un abbraccio, lo sai bene che le amicizie vanno oltre i colori e sono il sentiero dei pensieri, ti dedico questo piccolo verso. Detto ciò entriamo al vivo nell'argomento, Juve probabile si sta lavorando per un potenziale rinnovo di Allegri, qui non sono chiacchiere, non sono voci, c'è un articolo firmato da un'importante testata sportiva che non sarà infallibile, non sarà la Bibbia, ma non possiamo ovviamente sottovalutarla e firmato da una grande giornalista, da una grande professionista come Fabiana della Valle, quindi non possiamo non prendere in considerazione questo articolo uscito sulla Gazzetta dello Sport. Io devo dire che non sono sorpreso più di tanto, più volte anche nelle trasmissioni di Tele Lombardia mi è stato chiesto un parere sull'eventuale prossimo all'elettore della Juve, io ho sempre detto temo, perché la mia posizione è chiara, poi io non voglio fare del mio anti-allegrismo un canale, come vedete cerco di parlare di calcio, anzi proprio perché sono in una situazione di fortissima conflittualità, cerco di parlare poco di Juve, non perché stia cambiando fede, la mia fede credo che chi mi conosce bene non è assolutamente in discussione, ma sia perché come ho sempre detto mi piace parlare di calcio tutto tondo, sia perché non voglio farmene un'ossessione, non voglio sempre stare lì a parlare dello stesso argomento, non lascio ad altri, ognuno ha la propria libertà di pensiero fare queste cose, però è chiaro che oggi è un po' la notizia del giorno, ecco, questo articolo di Fabiana della Valle, perché no? Però io voglio anche un attimino motivare, perché a dire no siamo bravi tutti quanti, a contestare lo stesso, ma costruire diventa sempre più difficile, e a proposito di costruzione, il riferimento, quantomeno i primi due anni di Allegri, non credo che sia del tutto casuale, quest'anno oggettivamente qualcosa Allegri ha costruito, almeno una sorta di solidità, non solo difensiva, ma solidità tra tutti i giocatori della Juve che sembrano uniti più che mai nel cercare di rincorrere questo sogno, quello di provare a non far cucire la stella all'Inter, ma nello stesso tempo a vincere un altro, un ulteriore scudetto, portare un ulteriore scudetto a Torino, portare un ulteriore scudetto allo Juventus Museum, ma ovviamente il futuro in calza, perché ormai giugno non è più lontanissimo, non è più un'utopia, più volte si è parlato di un Allegri stanco, di un Allegri pronto a lasciare, magari da vincitore, qualora vincesse lo scudetto per lui sarebbe la rivincita, quindi a un certo punto dire sbatto la porta, me ne vado, ho vinto lo scudetto, io non ho mai creduto a una cosa di questo genere, io ho sempre pensato che purtroppo, purtroppo perché poi tante volte si guardano le crepe in cima ad un palazzo, ma per vederle bisogna andare alle fondamenta, il pasticcio sia stato fatto nel momento in cui l'amicizia che lo ha legato al Presidente Agnelli lo ha portato nuovamente alla Juventus, c'è stata un'altra sliding door che è stata molto importante perché giustamente molti ricorderanno la penalizzazione che praticamente ha sancito la fine della stagione scorsa, non è propriamente come tanti, soprattutto i supporters di Allegri dal mio punto di vista credono che la penalizzazione abbia in un certo senso fatto venire fuori chissà che, perché la Juve comunque ha avuto un arrendimento altalenante, quando ha preso poi il meno 10 poteva rimanere aggrappata al filo della speranza e invece perde 4-1 ad Empoli, qui non è propriamente tutt'oro quel che lucica, le cose vanno anche viste, non secondo interpretazione ma secondo determinati risultati, così come chi mi conosce, chi mi segue in tv lo sa, non mi piace quando tutto salta in cavalleria, tutto intendo la prima parte di stagione, l'eliminazione dalla Champions, i cinque schiaffi presi al Maradona dal Napoli, è vero che era un altro Napoli ma cinque schiaffi non si devono prendere più dopo la famosa Supercoppa di Mayfredi del 90, invece purtroppo è capitato ed è successo ancora ma tutti gli allegriani fanno finta di non vederlo, ma non siamo qui per fare la guerra a uno o all'altro, sono qui per esporre le mie riflessioni che chiaramente sono nette, sono schierate, non mi nascondo, ma non sono qui ovviamente per parlare male di chi ha un'idea diversa dalla mia. Dico di no perché Allegri no al rinnovo. Allora, la prima ragione è che comunque Allegri ormai è alla Juve da troppi anni e sappiamo bene che i cambiamenti sono importanti, io sono stato forse uno dei più grandi fan di Marcello Lippi, ancora oggi lo considero il più grande allenatore della storia della Juventus, ma quando Marcello Lippi alla fine unitamente con la società decise di lasciare dopo il 2004, dopo l'eliminazione col Deportivo La Corugna, io non ho detto niente, non avrei neanche voluto che rinnovasse, era tempo di cambiare, era tempo di voltare pagina, questa pagina invece che rimane sempre lì, rimane sempre lì perché come dicevo all'inizio del discorso, l'amicizia ha fatto la differenza, è stata una sliding door importante, così come la penalizzazione dell'anno scorso che ha mandato in cavalleria il fallimento e ha messo in risalto soltanto una piccola parte, la seconda parte dove la Juve ha fatto meglio sicuramente, ma non ha fatto benissimo come tanti vogliono far credere. A questo ci aggiungiamo il fatto che probabilmente in questo momento non c'è un personaggio alla Juve che viva veramente di passione, che abbia voglia nuovamente di far riemergere la Juve non soltanto per i risultati, ma anche per un appeal come era la Juventus del trap, che sarà stata difensivista finché volete voi, ma che comunque dava spettacolo attraverso i lanci di Platini, attraverso le progressioni di Bogniec, attraverso i gol di Pablito Mundial, così come è stata quella di Lippi, risultati roboanti, 4-3 alla Lazio, non ve li devo citare tutti nel 1996, 6-1 a San Siro, 2-1 all'Ajax, 4-1 all'Ajax, nel 97 4-1 al Monaco in semifinale, 4-1 nuovamente al Milan, e dai, questo voglio dire, non è che debba sfogliare l'almanacco per ricordare certe determinate cose, era una Juve che non solo vinceva, ma una Juve che lasciava la propria impronta, e dov'è adesso questa impronta? Oltretutto, il primo motivo è questo, ne diciamo solamente tre perché poi diventiamo noiosi, il secondo motivo è anche legato a questa, chiamiamola così, a livello comunicativo, questa guerra ormai terribile tra chi è pro e chi è contro, ci siamo dimenticati tutti, mi metto dentro anch'io, della Juventus, ok? E chi dice di no è perché in questo momento era d'Allegri, poi quando lo metti davanti ai fatti e gli parli dell'ultimo scudetto di Sarri, ti dice che quello scudetto lo vinceva chiunque, non contava nulla, quindi sono persone che sinceramente non dicono propriamente la verità, è comodo essere juventini quando c'è l'allenatore che piace, lo siamo tutti, quindi per evitare che tutto questo vada avanti, o meglio per far sì che tutto questo finisca, visto che anche Conte, che sarebbe un altro allenatore divisivo, probabilmente, come abbiamo detto nei nostri video, sarà il prossimo allenatore del Milan, sarebbe bene finalmente cambiare pagina e ripartire tutto da capo. Terzo ed ultimo motivo, e mi fermo qui, sono stato fin troppo lungo per le mie abitudini, la comunicazione. Attenzione a non confondere certe affermazioni che non sono per me in stile Juve, non sono in stile Juve, ricordiamo che cosa accadde a San Siro l'anno scorso, durante l'eliminazione in Coppa Italia, certe affermazioni non sono in stile Juventus e l'idea di andare avanti comunque con una persona, con un personaggio, che confonde queste affermazioni col fatto di essere Juventino, essere Juventino vuol dire, secondo me, dal mio punto di vista, la Juve la seguo da 40 anni, avere anche una certa delicatezza, un certo modo di esporre i propri principi, che spesso devono, queste delicatezze vuol dire anche essere un pochino sarcastici, avere ancora questa comunicazione vuol dire veramente far allontanare tanti tifosi, chi come me ha amato la Juventus per l'eleganza, per il fatto di rispondere raramente, di rispondere sempre con classe, rispondere sempre con distacco, con quello stile direi proprio tipicamente Sabaudo, che ha fatto innamorare tanti, me compreso, di una vecchia signora che ora sembra davvero non averne più e sembra voler affidare tutto il proprio destino a chi sicuramente ha vinto, ma chi secondo me non dà una grande immagine di lei.